Hanno occupato la sede del Dipartimento regionale alla salute e bloccato il traffico su tutta via Buccarelli, il nutrito gruppo di dipendenti del Marrelli Ospita di Crotone, che questa mattina si sono fatti trovare di buon'ora davanti alle porte degli uffici commissariali per chiedere risposte circa il mancato accreditamento della struttura, che da 20 mesi attende di aprire battenti per delle presunte irregolarità nell'iter di assegnazione delle autorizzazioni, rilevate dal commissario Oscura e dal subcommissario Urbani. Ed in particolare è proprio nei confronti di Urbani che il titolare del Marrelli Ospita, Massimo Marrelli, ha espresso tutto il suo disappunto. Da una parte abbiamo sentito le esternazioni del commissario Oscura che ha raccontato soltanto delle frasi di circostanza, ma la cosa più eclatante che riteniamo sia stata molto significativa di quella che è la malafede è la mancanza del signor Urbani, che in questo momento per onestà intellettuale doveva presentarsi e per coerenza avrebbe dovuto sostenere quella che è una tesi che da quattro mesi a questa parte sta portando avanti. E quindi questo diventa inaccettabile, perché è evidente che è significativo di una lobby, di un accordo, va bene, che non so di chi sia il regista di tutto questo, ma che sicuramente lui ne fa parte, dove hanno pianificato quella che deve essere la gestione della sanità in Calabria e il fatto che sia escluso a Crotone e il fatto che sia escluso il Marrelli Ospita da tutto questo o a margine tenuto in considerazione, questo non è accettabile. Immediata la risposta del commissario ad acta per la sanità calabrese, Massimo Oscura, il quale ha cercato di sedare gli animi rassicurando, tifo per voi, perché l'apertura di questo ospedale potrà contribuire alla diminuzione della mobilità passiva. Non ci sono lobby, non ci sono gombin, ci sono state grandi difficoltà nelle precedenti strutture commissariali perché, come dice la nuova legge, il controllore non può anche essere controllato. Adesso, con il nuovo sistema, il controllore è diverso dal controllato e quindi ha tutto il dovere e anche l'orgoglio, se mi consentite, di cercare di fare del proprio meglio per sviluppare la sanità calabrese che è ridotta obiettivamente a un livello bassissimo. Faccio il tifo per Marrelli e prima di tutto per i lavoratori di Marrelli, come ho fatto il tifo e mi sono impegnato per i lavoratori della Campanella. Faccio il tifo per i lavoratori di Marrelli perché, tra l'altro, opportunisticamente, con questa attivazione della clinica Marrelli ridurremo anche la mobilità passiva per la parte di competenza delle funzioni che vengono svolte in Marrelli.